Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale e così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it Grazie a tutti.